Chi vende esclusivamente vini naturali, chi sceglie solo tecniche produttive e ecosostenibili, chi produce un numero limitato di bottiglie. Realtà vinicole, medie piccole, italiane, uniche nel loro genere, sono le protagoniste di Che Vino, una start-up di vendita online di vini nata con l'idea di far conoscere cantine magari più piccole, ma con un'identità e una storia, e far così crescere tra i consumatori la cultura del vino e la conoscenza del territorio. Federica Piersimoni, travel blogger, è una fondatrice insieme con Elio Maria Piersimoni e il sommelier Giuseppe Triscioglio. Che Vino nasce in viaggio fondamentalmente con il mio compagno, che è anche il mio socio. Abbiamo viaggiato in giro per il mondo e tra una degustazione in Sudafrica e una in California abbiamo deciso di fondare questa start-up. Qual è l'intento di Che Vino? È quello di raccontare il territorio, raccontare i piccoli e i medi vignaioli, riscoprirli e portarli nelle case degli italiani. Un viaggio dal territorio alla tavola che passa anche per l'attenzione alla sostenibilità a partire dal packaging e all'impegno sociale.